Campo difficile, un palazzetto piccolo ma molto pieno, quindi sapevamo che venire qua sarebbe stato difficile perché poi adesso che comunque siamo in testa della classifica tutti ci aspettano per batterci è stata una partita difficilissima, però per fortuna anche non giocando al meglio si è riuscito a portarla a casa.